La casa intelligente fa ormai parte della vita di tutti i giorni come logico sviluppo di una maggiore connettività e porta l'internet delle cose alla sua logica conclusione. Tuttavia, la totale interconnessione porta con sé anche alcune difficoltà, come le possibilità di controllo. Certo, è facile controllare l'intera casa tramite un'av, ma non sarebbero più pratici altri metodi. Molti utenti di case intelligenti desiderano un controllo vocale avanzato. La tendenza si sta chiaramente muovendo in questa direzione e la tecnologia ha ancora spazio per essere sviluppata. Illustrazione di IVE Voice per il controllo della casa intelligente IVEI, da Zuse Z3A al 3000 Il desiderio di massima comodità da Zuse Z3A al 3000 Il controllo vocale svolge già un ruolo importante nel funzionamento delle case intelligenti. Uno studio condotto dai ricercatori di mercato del gruppo NPD, National Purchase Diary, ha rilevato che il 73% degli abitanti delle case intelligenti utilizza già i comandi vocali. Questo dato non deve sorprendere, poiché prendere lo smartphone e aprire l'applicazione fa parte degli inconvenienti che una casa intelligente dovrebbe evitare. Circa il 61% degli intervistati vorrebbe vedere un'espansione dei comandi vocali nella smart home. Desiderio di un funzionamento il più semplice e intuitivo possibile anche Android e iOS hanno integrato il controllo vocale nei loro. Sistemi operativi come componente essenziale del processo operativo e stanno ampliando le opzioni per i comandi e le domande a comando. Vocale di versione in versione. Ciò è visibile anche in sistemi come HomeKit di Apple. Cos'è HomeKit? O Amazon Alexa, in cui il controllo vocale è già possibile oggi. In termini di sviluppo del software, la capacità conversazionale del riconoscimento e del controllo vocale è essenziale per la casa intelligente. Altrimenti, il parlato nella casa intelligente degenererà in una mera memorizzazione di semplici comandi. Altre mila. Il desiderio di massima comodità. Amazon Echo e Vee. Statista. Quindi, se anche voi desiderate potervi sdraiare sul divano della vostra casa intelligente e coordinare la vostra casa con poche parole. Sedetevi, il controllo vocale è la nuova tendenza della casa intelligente. Maggiori informazioni su NPD. Come i link contrassegnati con sono i cosiddetti link di affiliazione. Se viene effettuato un acquisto tramite tale link, riceveremo una commissione. Non ci sono costi aggiuntivi per voi. In qualità di redattrice fin dall'inizio, Alina ha contribuito a dare forma a molti degli argomenti del team di Homeamp.e virgola smart. Le sue idee creative non si limitano alle tendenze attuali della casa intelligente, è sempre un passo avanti rispetto al suo tempo. Il suo obiettivo, come può la tecnologia intelligente migliorare la nostra vita quotidiana?